Il governo fa i conti e i conti sono, mancano 4 miliardi all'appello. Al governo mancano 4 miliardi su quella che è la bilancia tra gli incassi e le uscite e in questi 4 miliardi rientrano i rimborsi alle varie regioni per quelli che sono stati i costi sanitari sostenuti per il Covid. La regione Umbria deve prendere i buoni miliardi, la Lombardia, la Sicilia, i soldi che sono stati spesi per le cure per il Covid, anticipati dalle regioni. Eppure non ci sono i soldi da rimborsare perché ci sono questi buchi, questi ammanchi che ammontano a 4 miliardi. Mancano ad esempio i fondi per i trasporti e allora il governo italiano è costretto a fare dei tagli perché le spese sono state improvvise, impreviste, quelle energetiche, i rimborsi che sono stati dati, minori incassi che arriveranno con le accise eccetera eccetera. Mancano 4 miliardi. Il governo è con il fiato corto perché fa i conti dove poter andare a recuperare questi 4 miliardi. Eppure non voglio fare il figlio di Putin sia chiaro, eppure ne abbiamo spesi non più tardi di un mese fa 19 di miliardi senza battere ciglio per comprare le armi. L'America ha detto, oh raga, qui bisogna comprare le armi da mandare in Ucraina, tu metti questo, tu metti questo, tu metti questo, tu metti questo, all'Italia sono toccate le spese per 19 miliardi. Ecco, noi abbiamo un gruzzolo da 19 miliardi da mettere sul mucchio di quello che sono i ricordi del lontano piano Marshall, di quello che era il 1945 quando gli americani vennero in soccorso di tutta l'Europa ferita e noi continuiamo a pagare quel favore. 19 miliardi per comprare le armi, ma non abbiamo i soldi da ridare alle regioni per le spese che ci sono state per il Covid, non abbiamo i soldi per i trasporti, non abbiamo i soldi per fronteggiare la crisi economica, non sappiamo come uscire da questa inflazione che è al 6%, non sappiamo come uscire da quello che è il problema del potere d'acquisto di uno stipendio di un qualunque dipendente, chi è il 5%? Vale e chi prende un bello stipendio ovviamente non si preoccupa, ma chi ne prende 1 milione, chi ne prende 1.200, 1.400, 1.300 o 1.000 il pensiero diventa preoccupante. Non abbiamo i soldi, come si diceva un tempo, non c'è un becco di un quattrino per far ballare un cieco e noi non abbiamo i soldi per i trasporti, per la sanità, per quello che sono le spese di una nazione. Però Draghi va da Biden a sentire se serve da mettere qualcosa ancora per fare la guerra e ci rendiamo disponibili. Macron mette le mani avanti, la Germania fa lo stesso, ma noi italiani partiamo e andiamo da Biden a dire eccoci, se serve qualcosa noi siamo a disposizione. Per quanti anni ancora dovremo pagare quel favore che ci ha salvato dalla fame nel post guerra, quel piano Marshall, 1945, fate conti quanti anni sono passati e ancora quando gli americani bussano a casa noi caviamo fuori i quattrini. Non so se siamo in debito o se siamo a credito, però non mi sembra che gli altri in Europa siano contenti. Grazie per la visione!